Perché nelle build di Eva hanno dato spazio a Mari e non hanno utilizzato un personaggio anche ben fatto come Toji Suzuara? Davvero mi stai facendo questa domanda? Perché hanno sfruttato Mari, personaggio inesistente nel mondo di Evangelion precedente ai rebuild e che nel manga è comparso solo dopo che erano usciti i rebuild invece che Toji Suzuara Perché? Te lo dico io il perché Ecco il perché Perché è vendibile Perché è gnocca Perché è sessualmente allusiva Perché anche se La gente non l'ha mai vista Non c'entra assolutamente un cazzo con Evangelion È vendibile E la prima scena in cui compare Lei che finisce a cavalcioni su scingi in pose sessualmente allusive Immagini se lo faceva Toji questo I rebuild ragazzi Non sono altro e nient'altro Che un motivo per ricicciare fuori un brand tra i più famosi della storia del Giappone E monetizzare fuori un brand tra i più famosi della storia del Giappone La trama è superflua La coerenza è superflua Quello che incontra Sono i money E basta Nient'altro I soldi cazzo Il sesso vende E se Asuka, Rei e Misato non ci bastavano Adesso abbiamo anche lei Lei è solo uno dei tanti motivi per cui io non guardo i rebuild Non mi piacciono i rebuild Non andrò al cinema a vedere il 3.0 più 1.0 Non ne ho bisogno E chi dice no ma sono canonici la teoria del loop Ragazzi Ma secondo voi Secondo voi Chi ha creato Evangelion I rebuild Ha detto C'ho st'idea Per questa trama di Evangelion Ovvero la teoria del loop Ovvero è finito Evangelion Sono passati i millenni E si è ricominciato Oppure semplicemente hanno fatto un Raga vogliamo ricicciare fuori Evangelion Come lo giustifichiamo? Non lo so No Non lo so Non mi basta Vogliamo monetizzare di bestia Una serie che è durata 26 episodi Più un film Che ha sempre venduto un sacco Ma che adesso sono 15 anni Che non c'è più Abbiamo bisogno di spremere questo fandom All'osso Vendere un casino E attirare nuova gente In una serie storica Che ormai ha fatto il suo tempo Come vendiamo a questi weeb del cazzo Se facessimo tipo una teoria del loop Quindi possiamo riutilizzare Roba che abbiamo già fatto Ma cambiarla all'occorrenza Visto Ci voleva così tanto Bravo Promuovete quell'uomo Non è venuto prima La teoria del loop E poi il rebuild Sono venuti prima I rebuild E la voglia di fare soldi E poi la teoria del loop A giustificare quei rebuild E vi piacciono i rebuild Va bene Ma non rompetemi il cazzo Se a me non piacciono Perché io la vedo così E nel vostro cuore Dentro di voi Sapete che ho ragione Ciò non toglie Che vi possano piacere Che vi possano divertire Le animazioni sono incredibili E ci mancherebbe altro Ci sta che vi piacciono Ma dentro di voi sapete Che state fruendo Di un prodotto Nato soltanto Per vendere Che poi Idea che hanno Ci abbia voluto mettere dentro La sua depressione Sui messaggi particolari Un film intero Dove semplicemente Allusioni sessuali Tra Kaoru e Shinji E loro che sono al pianoforte Per 40 minuti È un altro discorso Ma sapete Che sotto sotto Quello che vi ho detto È un po' la verità Tanto io lo so Che Mirko farà il taglio E ci sarà la gente Che ovviamente mi dirà Si vede che non capisci un cazzo È vaffanculo Perché ogni volta Che io esprimo un'opinione E finisce su YouTube C'è sempre qualcuno Che deve denigrare La mia intelligenza La mia cultura La mia capacità critica La mia capacità razionale Sempre E non capisce Che è la mia opinione Ma mascherata Di una certa Servezza La tradizione Una volontà Semplicemente Di creare Una sorta di Mood Come se io stessi Dicendo qualcosa Che può rivoluzionare il mondo Quando sto parlando Di cartoni animati Giapponesi Mi sono rotto il cazzo Dalla gente che non capisce Quando sto Dicendo qualcosa In cui credo Ma colorandolo Di un certo teatro Per ridere Rottura di coglioni Sono Sono intollerante oggi Sono C'ho le palle girate Ho dormito male Oh E questa zinona